Hit match a squadre Un caso di uomo di Man in Black e l'altro Stanno andando a pesca Ma si Oh porca puttana Da dietro Ragazzi ho fatto flipper giù dal burrone Tu stai spiando da ciccio L'avete detto in coppia E per la tutela animale e animale Benvenuti in questo nuovo video su GTA Sono tornate le gare di gruppo Pazze e malate e mi raccomando Se settimana prossima volete un altro video Superiamo i 40.000 mi piace Non mi resta altro che lasciarvi al video Buona visione Ciao ragazzi ragazzi Sono Anime bentornati in questo nuovo video di GTA Di gruppo Quest'oggi è tornato anche ciccio Ciao ragazzi C'è anche il fratello del Joker Suri e Vegas Ciao Ciao E infine c'è anche Teodoro Bello E' tornato il Jokerone con le gare speciali La prima gara sarà il BMX La seconda sarà il Deathmatch E la terza saranno le macchine Quindi ma che cazzo di bicicletta è questa? Ma poi non è cattiveria eh Ma da quanto è che c'è quei mutande ancora Deve essere cambiate? E ormai son gialle Le vedi son nere Eh mamma mia Ragazzi ma è una parkour? E per la prima volta ragazzi scommetto 100 dollari Comunque Poveraccio di merda Tu hai messo la BMX sulla spiaggia? Anche tutti hai messo la BMX No io non ho messo la BMX C'è l'hamburger come sponsor Non vale Alto a destra Togliti papà Mamma mia ragazzo Ho ritornato per vincere? Non fa lo strozzo Klaus No 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 Ho preso il sasso Salta Uh Allora al parkour ho capito No fin qua era troppo tempo ragazzi Io non so neanche come cazzo Ah papà Non hai mai dire al cazzo eh I figli stanno davanti papà Deve ricordarti Cazzo di drago Papà Aspe... Papà Che che? Oh raga vi giuro Io cotto a questa bestemmia Vi faccio Anche io Occhio giocherone Oh no Eh no porco il caro Raga ma io non ho più resistenza Oddio raga Ma che? Levati Oh raga sto primo cazzo mene della crisi Andiamo Oh me so schiantato per terra Cazzo mene della crisi Che se panino ha disertato perché lui è GTA E' scarso Esatto Ha detto che non vuole più giocare 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 Quindi manco le gare Ha vinto una volta Ha detto e poi basta Anima Mi aspetti Eh esatto Aspetto Ci anche No Sì La donna raga Frutti vendolo E si lancia la frutta alla vicina Io santo benedetto Anima ma vuoi morire Ma che cazzo Ma ti sto aspettando No non è vero Anima ma ha detto scusamente Oh metti la bbx Ma è finito Ma sei un merdoso Ma Klaus Doviamo mettere una scommessa Visto che sei l'ultimo No 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 Alla fine gara mettiamo come votazione Il pollice in su Il pollice in giù Se volete che è l'ultimo All'ultima gara si parla L'ultima gara fa la penitenza Ok Ma come sono arrivato terzo con la bici eh Io sono arrivato secondo Ovviamente ragazzi La penitenza è la sfida La solita mia Quella che Dovete mettere un post su facebook Sulla pagina Quello che decidiamo noi Cioè in gruppo Decidiamo cosa deve scrivere il perdente Dopo le tre gare Si vede chi è l'ultimo Chi sarà Io non Ehi Guarda questo che schifo Con ste mutande Mamma mia Il papa Ma c'ha pure la ricrescita inguinale C'ha Che schifo Mettete il pollice in su E arriviamo a 40 mila mi piace Aspettate raga Non mi parte niente Ma che hai detto match a squadre Eh Non c'è sette match Aspetta messa gli addi Che potrei finire in squadra Con Klaus Sì Ma rega Ma cazzo so l'endica Eh no No rega no Aspetta ciccio Facciamo come a calcio Visto che io e te Mi sa che io e te Estimo Però si muove Questo oggi è stronzo Hai te sempre Forti Ci decida la squadra Io sono il capitano Della squadra E tu qui il capitano Dell'altra Va bene Vai Mi raccomando Allora Suri e Klaus Saranno gli ultimi Essere scesi Quindi Io non parlo Ciao E me anch'io Ciao Ma metti caso che No Puta caso Anima e casca Klaus E su Suri Che fa Ma guarda che Ne hai dire Tema c'è la squadra E son bravo Ma guarda che anch'io Son bravo No ma guarda che mi sa Che facciamo a squadra La squadra No Sto colciccio e anima Bene Che cazzo Ridele Io non dovrei Di uomo Di Man in Black E l'altro Sto andando alla pesca Tipo Allora fratelloni miei dobbiamo o cazzo è partendo avanti ma cos'è ragazze perdono è uno smacco per loro quindi vincere Ma io non posso così come si compra di raccogliere E' sopra Klaus Sì ma non so come si cambia arma Come si compra? Tu metti adoro via Ragazzi sono dietro Raga non so come si cambia arma giuro Ma che cazzo Piccato BOMBARIMA IN FACCIA Cazzo Cazzo ne so BOMBARIMA Suri è stato esploso proprio cazzo Il strofono colombo Ma che cazzo Oh tripla Dai ragazzi che gli fanno il culo Oh ragazzi ci stanno battendo Ma anima io gioco a Gears non GTA Sono pescato da sotto No vabbè ma gioca se buttate sotto No ragazzi a te me ci faccio cagare porco due Paffanculo Klaus Ma chi è che mi ha ucciso? Ma da dove? BOMBARIMA Troia di merda c'è il culo Penzola Corpo un famoso Siamo tornati in vantaggio Ma chi è ucciso Suri si sono uccisi insieme Non vale Raga Oh Teodoro Oh porca droga Oh Oh Porca buttata Suri come cazzo l'hai ucciso? Suri si è suicidato dai Oh papà Oh ma cosa sono quei numeri Prima era 9,8 6,14 Cazzo Con il culo del fucido Oh porca muta No D'adietro D'adietro Raga ho fatto flipper giù dal burrone Come si sale sui container? Che tasto te lo preme? Quadrato Cerchio Doppia V Eh ma ciccio sei proprio strusso eh Oh porca droga Ma dove state? Un nerd del ghetto papà proprio Che palle Suri si è buttato me sa No No Raga Vai vai raga andiamo andiamo penetriamo le porca Eccomi Marco fu morto L'ho sceso l'ho sceso Ecco i carabinieri che hanno sempre fettine No perché io la sa tu Oh Oh No Suri si è buttato di sotto di nuovo No è la prima volta Oh Punti ad oro Gni 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 Cazzo c'ha pure lui Ma non è vero Vittorio Ah giocatore più importante è il Joker Lo dice anche il gioco È vero è vero Taglierò sta parte Ah Vegas ma che è quello che ha fatto più kill nella squadra Oh No dove stanno Però hai fatto anche più morti hai fatto eh Hai fatto venti morti Ho fatto 7 punti Oh 30 punti Qua è tutta una gara tra claus Suri è su chi mette il poster Speroniamo Suri Cosa speroniamo 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 Ora ci sono le auto Sì sì Viva lo spermo La coronaria Ah black sunshine Ah la conosci? È amico suo No la faceva da bambino sta mappa Le hai messe le collisioni e la pula attiva Sì ok Il traffico meti traffico cifra Metti traffico cifra Che vai stasera? C'ho Lemon o parapolese Zentorno vai Si va a comandare con la macchina arancione Anzi no la macchina verde è il mio colore Dov'è? Verde è brillante Eccolo qua Brillante come il mio cervello Io scommetto 10.000 dollari Ah grazie Non doveri Allora seguire i signori Probabilmente se la giocano Suri e Klaus Vediamo chi arriverà nella classifica finale Ultimo Ooooooh Sei ma ha preso un albero Ragazzi Ragazzi ma che su'accisa No ragazzi No ragazzi No ragazzi Do cazzo sto Ragazzi come si scende? Ma allora bisognava andare dritti Dovi scendere sotto al palazzo Ah ecco come si fa Sì ma qua arrivo io ultimo Cazzo io Io non riesco a prenderlo No cazzo sto 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 Ma che cazzo fai, sorri! Ha cancellato anima Sorri, ma che cazzo! Sì, lo sto cerca, venga, ma non è qui, pesa Sì, fighissima, sta mappa, raga Lo sto sbiando da ciccio! Sorri, mi sa che hai perso, eh L'avete detto un coppia, che bello, aia E tagliete, tacco, tagliete Oh, oh, madonna mia, proprio da Tokyo Drift Eh, ma non ha senso, io e Joe che l'abbiamo preso adesso è il primo checkpoint Ah, ma noi abbiamo preso questa cosa alberata al contrario prima Ah, il secondo è Klaus, ragazzi, sta... Ti faccio fare un botto? Sì! Durrì, prepara il post sulla pagina Ma guarda che posso arrivare anch'io l'ultimo, se non ci arrivo Oh, cazzo, è vero Corri, corri, corri Levati, anima Ma il cazzo Guarda che c'è l'amichetto anima che ti aiuta, eh, Klaus, ho un pezzo di merda Anima, che mi aiuta Ma non è vero Dove state messi Sto gariggendo normalmente Sì, Marquez Sì, sì, vai Oh, Marquez, zitto Giò, Garry, e te stiamo inguaiati È scatenatissimo, ragazzi, Surry È scatenatissimo, raga È inutile, Surry Ma cosa vuoi, sta zitto Vieni, vieni, che ti faccio superare, così vediamo che arriva l'ultimo Mi piacerebbe Vai, Surry, vai, Surry, passa Surry, passa Cazzo, fai passare, anima Surry Ragazzi, forse Vegas deve mettere il post Zero punto Non so arrivato neanche io, non so arrivato Vedere Joker che non arriva è incredibile, cioè, scrivetelo sul calendario che non ha finito una gara Ma ci ho perso 40 minuti per cercare un cazzo, dice poi No, non è la generale Tra poco vi metterò lo screen del post di Papa Vegas sulla sua pagina Facebook Decidiamo cosa devi scrivere Ah, questa febbre notturna Sarà per troppi anali che faccio A me piace Ti voglio bene Giuseppe Tanto Klaus me la scampi Ok animale male, questo video può concludersi qua Io ringrazio tutti questa banda di scellerati e pazzi Non ci sbeccato mai con voi Stay angry Stay angry Mi dispiace papà